Sono contento, un risultato davvero grandissimo che mi impegna a continuare lungo quella strada che deve portare questa città ad un decollo definitivo nel turismo, nell'agricoltura, in tutti gli altri servizi, grazie a tutti i cittadini che davvero hanno dato alla mia lista un plebiscito. Ringrazio tutti i miei candidati e sono convinto che faremo una strada importantissima perché Fossacesia sia una città importante e che tutte le opere in cantiere e tutte le cose sulle quali ci siamo confrontati le concluderemo nel corso di questi cinque anni. Ma dove si riparte? Si riparte da tutte quelle opere pubbliche ferme, inizieranno nei prossimi mesi, Fossacesia diventerà un grande cantiere, ma la cosa è semplicissima. Io ho un obiettivo in questi miei ultimi cinque anni di sindaco della mia adorata città è creare occupazione e produrre ricchezza per tutti. Questo significa rendere felici tutti i miei concittadini di Fossacesia.